E' come un effetto placebo, in qualche modo comunque ti aiuta a superare una malattia, ti aiuta a superare quel momento di difficoltà e ti rende più potente. E' come una pozione magica. Un venditore di sogni, lui sta attraversando tutta questa Italia post bellica, siamo nel periodo dopo guerra, siamo in un'atmosfera quasi cinematografica come una giornata particolare, questo tipo di film. E' un uomo che aiuta a colorare la vita di queste persone anche se per un piccolo periodo di tempo. Una furtiva lacrima E' veramente un capolavoro. La drammaturgia è molto efficace in questo spettacolo. E' una musica che ti permette di ricordare, uscendo dal teatro, alcuni temi, alcune arie come quella di Nemorino, famosissima, Una furtiva lacrima. E' il primo debut del 2018, e per me è un ruolo, perché questa è la prima performance che ho avuto. E' un ruolo che mi piace di chi ha avuto. E' un ruolo che fa anche per la loro indipendente. E' un grande rischio per la loro indipendente, perché si può avuto tutto. Lo spettacolo è molto moderno, perché veramente c'è la possibilità per tutti di poter vedere in qualcuno dei personaggi qualcosa di sé. Atea! 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 A